Svolta nelle indagini sull'aggressione di Via Garrese per pretate danni di un ventenne di Sulmona. La squadra anticrimine del commissariato di polizia sulmonese, al termine di una battente attività di indagine, ha denunciato per lesioni gravissime, PP, un 25enne del luogo. L'aggressione grisa alle prime di febbraio è stata tra le più brutali. I due stavano sorseggiando un tring in un bar, poi, una volta usciti fuori, è scoppiata la lite. Il ventenne è stato colpito con una bottiglia di birra in volto e rimediato gravi fratture alle orbite dell'occhio. Subito dopo l'aggressione, un'ambulanza del 118 lo ha accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale cittadino, ma di lì a poco si è reso necessario il trasferimento a San Salvatore dell'Aquila, dove è stato sottoposto a un delicato intervento. Il ragazzo ha accusato problemi alla vista e per poco rischiava di perdere un occhio, pericolo fortunatamente scongiurato. Le telecamere di videosorveglianza della zona non sono risultate utili agli inquirenti, che si sono messi subito al lavoro per risalire al responsabile dell'aggressione. Inizialmente i poliziotti sono scontrati con la solita omertà dei presenti che non volevano esporsi, temendo di rimanere coinvolti. Poi, attraverso un'attività di indagine tradizionale, sono riusciti a recuperare tutti gli elementi per risalire l'identità di Pippi. Il giovane avrebbe confessato alla polizia le sue responsabilità. L'anticrimine ha proceduto con la denuncia d'ufficio alla Procura della Repubblica per lesioni gravissime dal momento che il ventenne malmenato ha riportato una prognosi iniziale di 40 giorni. Il denunciato ha già un pregiudizio di polizia per un fatto analogo.